Contrario, numero 13, centemero, parere contrario, numero 14, occhiuto, accoglibile come raccomandazione con la seguente riformulazione, all'inizio a valutare ogni opportuna iniziativa e poi segue e poi punto fermo e fine del periodo dopo la parola professionale, quindi eliminando le parole e venendo considerati ai fini dell'effettivo servizio. E il numero 15, anche qui accolto come raccomandazione con la seguente riformulazione, impegna il Governo a valutare ogni opportuna iniziativa, eccetera. Grazie. Grazie a lei. Bene, vi devo comunicare che per un mero disguido la Presidenza, dopo l'approvazione dell'emendamento 15.100 interamente sostitutivo dell'articolo 15, chiedo scusa, ha posto in votazione anche tale votazione deve pertanto intendersi annullata. Stiamo parlando quindi della votazione dell'emendamento dell'articolo 15. adesso andiamo all'ordine del giorno numero 1, Matarrelli. Invito al ritiro parere contrario, si chiede di metterlo in votazione, Matarrelli sì? Bene, dichiaro aperta la votazione sul numero 1, Matarrelli. Qualcun altro? Ci siamo? Chi manca? Sberna. Sberna.